È stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato, intento a scassinare le macchinette, slot e cambiamonete all'interno di un bar di Morbenio. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio nella città del Bitto, dove un ventenne egiziano, regolare sul territorio italiano e da qualche tempo residente in provincia di Sondrio, è entrato, come un normale cliente, nell'esercizio pubblico, dirigendosi nella zona del locale riservata alle macchinette da gioco. Qui, indisturbato, il nordafricano ha estratto gli attrezzi da lavoro che aveva con sé, due grossi cacciaviti ed una pinza, cominciando a scassinare le apparecchiature per estrarne il denaro. Per lui una doppia beffa, il bottino inesistente perché gli incassi erano stati prelevati poco prima e poi l'arresto da parte dei carabinieri della stazione di Morbenio giunti sul posto a seguito di segnalazione al 112 con l'accusa di tentato furto aggravato e continuato. Inoltre i militari hanno proposto nei suoi confronti la misura del foglio di via obbligatorio da Morbenio per i prossimi tre anni.